Renato Mazzoncini, CEO A2A. Ciao Renato, ci sei, ci senti, ci vedi? Sì, vi sento bene, buongiorno a tutti. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, non solo transizione energetica, insomma, tanta esperienza, peraltro la tua, insomma, in tanti settori lo sappiamo bene. Ecco, quali sono i punti da mettere nell'agenda per i nostri lavori nei prossimi mesi come CEO4Life? A te la parola. Insomma, indubbiamente il PNRR è un'opportunità importantissima da prendere. Adesso una delle domande spesso che mi viene fatta è in che misura possiamo, diciamo, partecipare a questa grande opportunità che ha l'Italia e che ha l'Europa. Non è semplice dirlo perché in realtà tutti i nostri piani industriali, il nostro come quello di Gianni che ha fatto vedere poco fa, in realtà non prevedono dentro le risorse PNRR. Nel senso, i nostri, per esempio, 16 miliardi investimenti nei prossimi dieci anni, da qua 2030, sono tutti fatti con i nostri flussi di cassa o la gestione della nostra leva finanziaria. Ma in realtà ben 7,2 miliardi di questi, per esempio, sono completamente all'interno di, diciamo, progetti che sono coerenti con la missione 2 del PNRR e quindi, non so, per esempio, il tema dell'agricoltura, dell'economia circolare, il tema delle energie rinnovabili, dell'idrogeno, della riqualificazione energetica dell'edificio e quant'altro. Qual è il tema, secondo me? Il tema è che qui ci troveremo a dove spendere questi soldi in tempi molto veloci, drammaticamente veloci, perché parliamo del 2026. Sappiamo benissimo quanto tempo serve per fare un progetto, per aprire un cantiere e per mettere a terra degli investimenti, quindi il problema è che bisogna essere pronti. E per essere pronti, come dire, direi che è quasi come se il cantiere deve essere già aperto. Come fa a essere già aperto il cantiere? Devi essere già attivo in quel mercato. Per esempio, facciamo un esempio banale. Noi abbiamo un miliardo di investimenti sul tema dell'acqua, sia sulla parte della riduzione delle perdite, sia sulla parte di tutta la depurazione. L'Italia, sapete che è un disastro purtroppo su entrambi i fronti. Abbiamo una trentina di miliardi di euro da investire sul tema dell'acqua, sia sulla parte upstream che downstream. Noi ne abbiamo previsti un miliardo nel nostro piano industriale, ma questo vuol dire di fatto che abbiamo i cantieri aperti per poter raccogliere, diciamo, anche risorse che penso sicuramente arriveranno anche sul tema dell'acqua dal recovery. E così vale ovviamente per quanto riguarda le energie rinnovabili. Abbiamo previsto 4 miliardi di euro per sviluppare circa 4 giga di nuove energie campiolici e fotovoltaici. Oppure il teleriscaldamento. Abbiamo un progetto veramente iconico per portare il calore della centrale di Cassano Dadda, che è una delle grandi centrali termoelettriche italiane, che ovviamente producendo energia elettrica produce di derivato calore che attualmente viene, come dire, viene scaricato nell'ambiente, invece deve essere recuperato per il teleriscaldamento di Milano, la provincia di Milano, con un incremento importante di efficienza, una riduzione di CO2. Abbiamo quasi 150 mila famiglie milanesi che potrebbero essere riscaldate con il calore che oggi è dissipato. Insomma, sono solo degli esempi per dire, per esempio, quest'ultimo, che ha un investimento da quasi mezzo miliardo, potrebbe essere assistito alle risorse del recovery in una logica proprio molto coerente col PNRR. Quindi credo che le nostre aziende, le nostre utility, potranno essere veramente particolarmente utili perché sono già in movimento, sono già in movimento e quindi sono in grado di gestire risorse incrementali che arriveranno su dei pillar che sono quelli appunto della transizione energetica dell'economia circolare che sono i nostri, ecco. E quindi su questo penso che il contributo potrà essere sicuramente importante. Grazie Renato, sei stato anche perfetto nei tempi, abbiamo segnato tutto, ci lavoreremo insieme e speriamo presto anche in presenza fisica. Un grande applauso anche per te e a prestissimo. Grazie Renato, a presto. Grazie.